Ciao a tutti amici di Planet Drum e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Antonio Falasca, un batterista di Pescara e ho avuto la fortuna di conoscere e iniziare una collaborazione con Marco, che tutti conoscete, da qualche mese. Oggi sono qui per parlarvi di un nuovissimo prodotto pensato e sviluppato direttamente da Marco in persona. Di cosa parliamo? Di queste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Queste ragazzi sono le nuovissime bacchette direttamente firmate da Planet Drum. Sono delle 5A in icori, molto resistenti e molto piene come bacchette, fatte sulle specifiche appunto date da Marco, da un falegname proprio romano, quindi made in Italy. Sono fatte sulla linea delle 5A con una bellissima punta a ghianda. Io le ho usate e hanno una resistenza bellissima, hanno un ottimo ping sul piatto e si tengono in mano benissimo. Sono un ottimo, sono un ottimo, ho avuto la fortuna di essere il primo ad averle in mano, c'è solo questo paio e Marco ha tenuto a darmele personalmente. Le ho usate e vi garantisco che non hanno nulla, nulla, nulla da invidiare ai marchi più blasonati. Presto li vedrete in giro, secondo me è un prodotto che merita. Dietro a queste bacchette c'è una persona che ha una grande cultura, che ha una grande passione che è quella della batteria. Ha partorito un'idea bellissima e non è una delle tante bacchette, è un'ottima, un'ottima, un'ottima bacchetta. Questo fatto di sentirla più in mano a me personalmente conferisce molta, 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 molta più sicurezza. Ha un ottimo grip e ha un ottimo suono, come avete potuto sentire anche dal video. Presto tutti potrete provare queste 5A targate Planet Drum, che è la rivista che ci accompagna da tantissimi anni a tutti noi batteristi. Provatele, non ve ne pentirete. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me. Saluto Marco, lo ringrazio per aver avuto questo onore. Saluto tutti voi, vi aspetto per tantissimi altri video, tantissime novità. Seguite la rivista online planetdrum.com e non vi scordate di seguire la pagina Facebook, la pagina Instagram e il canale YouTube per rimanere aggiornati su ogni novità del mondo della batteria. Planet Drum, una garanzia per tutti noi musicisti. Ci vediamo presto, grazie mille ancora, spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima ragazzi, viva la musica sempre, ciao!